Sì, un'altra speranza adesso c'è, questa volta vende per davvero, ma da buon tifoso del Palermo io ridico che quello blefa ancora e non è vero. Prima gli arabi, chissà, l'Europalermo voleva un far, già sognavo Messi, Rosa, Nero, ma tra il cacascio e la novità, insieme a lui c'è anche John Viola e sognavo il ritorno in Europa, ma è sparito. Prima il tatuaggio e dopo è sparito, Bancaini eri diventato un mito, ma abbiamo capito se è solo un fallito. È sparito, la caparra l'hai ripresa indietro, ti sei arriso prima di iniziare davvero, ci hai lasciato nella merda ma sul serio. San Marini fuori sono io il proprietario, ma questa cessione arriva il 32 gennaio. L'aquila cadrà ancora altre mille volte, ma saremo sempre noi a rinascere dalla morte. Maurizio, Maurizio, non ti levi il vizio, e i suoni di Iacchini, Novellino, Ballardini, De Zerbi con tedesco, Gattuso con schelotto, noi sopportiamo sempre ma questa volta è rotto. Corrini, Ballardini, Arrigoni, Gasperini, Mutti, Mangia, Rossi, Bioli, Del Nero e Gianni, Bosi, Lopez con San Nino, Portoluzzi con Tedino, speriamo sia la volta buona che finisce sto casino. Perché Maurizio Zamparini? Sei finito. Grazie a tutti.